Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo spacchettamento di bustine Giro d'Italia Amore Infinito Benissimo, allora ho qui tutto, ho qui l'album che vi faccio rivedere ancora Ho qui i pacchetti, ne ho presi 10 Poi vi spiego perché ho qui tutto, anche la penna poi per cancellare sull'album le card che troverò E comincerò, dunque comincio, ne ho presi 10 per due motivi Uno perché l'altra volta mi sono reso conto che 20 pacchetti era troppo Nel senso il video diventava lunghissimo E poi anche, volevo prendermi 15 a quel punto ma l'edicolante ne ha solo 10 Quindi faccio un video con 10 pacchetti Allora intanto trovo subito come carta BMC Racing Adesso non mi ricordo in memoria le carte che vi mancano e quelle che ce le ho Poi le vedrò piano piano Comunque, figurine Richard Carapas All fame Giro d'Italia Ben Sweet Maxime Monfrott e Rohan Dennis E' incredibile come, veramente, ne stavo valedendo l'altro giorno, ci siano delle squadre Che ormai le ho quasi terminate e ci siano delle squadre invece che ne mancano veramente tantissime E' veramente, veramente una cosa strana, veramente incredibile Allora, questa è la tappa intanto numero 13, Ferrara, Nervesa Allora, aspettate solo un secondo che mettiamo... Allora, aspettiamo giustamente la corrente qua perché se no si scarica e mi si ferma il video a metà Ok, eccoci qua Torniamo a posto, perfetto Allora Remy Mers Domen Novak Joe, mamma mia che nome Dombrovski Il cognome è difficilissimo da leggere Logan Hohen E Umberto Orsini E' di una squadra che ho quasi finito Quindi Se ne vado subito a ridere Tra l'altro tengo qua Orsini e qua, me ne mancano quindi solo tre per Labardiani CSF Quindi è buono, buono Non male Allora qua c'è una maglia che invece ho trovato, questa faccelo già, dell'Israel Cycling Academy Allora James Shaw William Tristina Mezza William Tristina Selle Italia Simon Gush Tom Stanzier E Daniel Salvini Salvini Che anche questo mi manca Quindi devo togliere anche questo dalla lista di quelli della Barmiani E' buono, buono, buono Va bene, va bene E le cartoline che mi sottranno tutte doppie Non mi piace Anche questa Team Lotto ce l'ho già Mannaggia Questa non mi piace Allora Jan Hearth Ho trovato il Lupo Wolf in Giro d'Italia Questa non ce l'ho sicuro Cimolai Questa non ho idea se ce l'ho no Ma anche questa squadra qua ce l'ho molti Andrea Mador ce l'ho Però lo faccio vedere E Rémy Cavagna O Cavagna Insomma, visto che è francese Avanti ad aprirle Bicicletta Bicicletta BMC Eccolo La prima che ho Cioè, vi faccio vedere Cioè, incredibile Ho aperto due bustine Due BNC Cioè Mannaggia le carte Veramente mi stanno facendo impazzire Ne sto trovando un casino Doppie Team Saweb Mezza Trex e Gaffredo Luis Mancias Mancias Non lo so Come si pronuncia Abbiate Grasso Che tra l'altro è doppia Sono sicuro Non lo ricordo E Giuseppe Fonzi Bene, bene bene Andiamo avanti Siamo arrivati a 5 Quindi mancano altre 5 Team Division Dada Questa Non mi ricordo Se ce l'ho o meno Ma Purtroppo le carte Veramente Ne sto trovando Tantissime doppie Allora Daniel Turek Miquelton Scott Jacopo Guarnieri Omar Frail E Henri Ellison Bene, bene, bene Andiamo avanti Andiamo avanti Mai perdersi d'animo Oh, questo dovrebbe mancarmi Perché non mi ricordo Di aver trovato mai Lo Zoncolan Ecco infatti Questa è la maglia speciale Per chi vincerà La tappa dello Zoncolan Quindi Questa mi manca Sono sicuro Fortunatamente Una cartolina che mi manca L'ho trovata Ecco Beh, fortunatamente Adesso mamma mia La bustina si è un po' appiccicata Ecco Apriamo Allora Bora Cesare Benedetti Alexander Jimenez Marco Matisse Mezzo Tinsa Webb E James Shaw E andiamo Con le ultime tre Anche con Veramente Anche con queste poche Comunque riusciamo Agrigento Sant'Anifra Dovrebbe essere Doppia Però Fa niente Facciamo vedere Tra l'altro Anche con dieci pacchetti Superiamo i cinque minuti Quindi George Bennett Domenico Pozzovivo Anthony Roy Luca Poznelberger Emanuele Senini Andiamo avanti Final two Final two Un'altra maglia doppia Della Stana E allora Maxime Monfort La planimetria del giro d'Italia Questa mi manca Jack Hight O Jake Non so come si dice Tim Saweb E Michelle Docker Che bei baffi che c'ha Docker Ultima bustina di oggi Vediamo 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 Team Sky Questo Questo dovrebbe mancarmi Perché non mi ricordo Una bicicletta Con lo sfondo marino Vediamo 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 Davide Ballerini Vassil Chirienka Rui Costa Thibaut Pinot E Laurent De Pleu Perfetto ragazzi Quindi adesso Le dividerò Cercherò Quali sono le doppie Quale no Sto avendo anche un po' di doppie Ovviamente Man mano che la collezione va avanti Le sto trovando Tra carte e figurine E A me non resta che salutarvi Ringraziare per la visione E dal rieappuntamento Del prossimo video Ovviamente Ricordatevi che farò Non so se riuscirò a tutte le tappe Ma farò tanti speciali Sul giro d'Italia Vi saluto E vedo appuntamento Quei prossimi video Ciao